La serie Pianura rappresenta la gamma di strumenti entry level dell'intero catalogo Goldwood. Al suo interno è presente un modello molto particolare che è quello che imbraccio in questo momento, una nylon crossover, cioè una chitarra che sta esattamente a metà strada tra la chitarra acustica steel string e la chitarra classica. Il top è in abete e la forma ovviamente è un cutaway molto morbido, fascia a fondo in mogano come pure il mogano e il manico, tastiera e ponte sono in ebano, teco wood. Il nut è di misura intermedia 48 mm quindi esattamente a metà strada tra una steel string e una chitarra classica. Dalla chitarra acustica steel string è mutuata la presenza dei dot segna posizione sulla tastiera mentre la paletta come potete vedere è slotted come sulle chitarre classiche. Le corde sono ovviamente in nylon. L'elettrificazione è affidata al sistema piezoelettrico più preamplificatore Fishman Pre-Sys II con regolazione di bassi, acuti, inversione di fase, master volume e accordatore. La nylon crossover è la chitarra ideale per il musicista di estrazione jazz, warm music oppure fusion. Potete provare la Goldwood Pianura nylon crossover presso tutti i Goldwood Point presenti sul territorio nazionale. Ciao!